È una domanda vecchia quanto l'umanità stessa. Siamo soli nell'universo. In vista delle migliaia e migliaia di formazioni che brillano verso di noi nel firmamento, è anche concepibile che la Terra sia l'unico corpo celeste nel cosmo che è sede della vita. Le prove ufficiali della vita extraterrestre sono ancora molto lontane. Tuttavia ciò non significa che l'esistenza dei nostri vicini extraterrestri sia categoricamente esclusa. Al contrario, molti esperti sono fermamente convinti che lo spazio sia brulicante di altre creature. Come persona che vuole trasformare Marte nel primo avamposto umano nello spazio nel prossimo futuro, Elon Musk anche ha la sua opinione al riguardo. Ma cosa pensa davvero il miliardario CEO di Tesla e SpaceX della possibilità di vita extraterrestre? E perché ciò che Musk ha da dire su questo è così inquietante? Andiamo a fondo riguardo questo entusiasmante argomento insieme. Quindi rimanete sintonizzati fino alla fine. Ma prima vogliamo chiederti, credi che esista la vita extraterrestre? E se è così, perché non l'abbiamo ancora trovata? Per favore, dacci un like e iscriviti. E facci sapere cosa ne pensi nei commenti. I commenti più eccitanti saranno contrassegnati con un cuore e appuntati in cima. Ricercavana Abbiamo ricevuto il WOW segnale. Ha inviato informazioni nello spazio come il Voyager Golden Records e ha rintracciato oggetti misteriosi come Oumuamua, che sono sospettati di essere veicoli spaziali alieni. Eppure non c'è ancora traccia di una svolta solida e incrollabile che possa dimostrare l'esistenza della vita extraterrestre e secondo alcuni importanti esperti come Stephen Hawking dovremmo essere estremamente fortunati che questo sia così, ma diremo di più su questo più avanti. Ma cosa pensa effettivamente Elon Musk di questo argomento? Come è noto l'imprenditore estremamente ricco sogna di portare gli esseri umani in modo permanente su Marte da qualche tempo. Se portiamo oltre questa idea, un'implementazione di successo potrebbe gettare le basi per missioni molto più grandi. Supponiamo che un giorno in un lontano futuro riusciamo effettivamente ad espanderci ben oltre il sistema solare. Se le tecnologie di propulsione del futuro rendono possibile rendere i viaggi interstellari una realtà e possiamo raggiungere e colonizzare corpi celesti che attualmente non osiamo nemmeno sognare, cosa ci aspetta nella vastità dello spazio? Incontreremmo solo un vuoto dilagante intorno a stelle aliene e nei sistemi planetari o forse civiltà fiorenti che sono di gran lunga superiori alle nostre? Bene, la risposta di Elon Musk a questa domanda è così succinta quanto semplice. Non ho visto alcuna prova di extraterrestri. Ma Musk non vuole renderlo così facile per se stesso. Nello stesso respiro menziona un'apparente contraddizione che ha dato mal di testa ai ricercatori per decenni. Nelle parole di Musk, la linea di pensiero avanzata dal fisico italiano Enrico Fermi nel 1950 può essere riassunta come segue. Dove sono gli alieni? Se l'universo ha davvero 13,8 miliardi di anni, gli alieni non dovrebbero essere ovunque. Carl Sagan, una volta disse che ci sarebbero potuti essere molti alieni, oppure nessuno. Entrambe queste teorie sarebbero altrettanto terrificanti. Fondamentalmente il paradosso di Fermi si basa sulla grande età dell'universo e sul suo grande numero di stelle, in considerazione del fatto che lo sviluppo della vita sulla Terra non era un'eccezione assoluta, basata su coincidenze estremamente improbabili. La nostra Via Lattea dovrebbe quindi brulicare di forme di vita extraterrestri. Se ci fosse anche una sola civiltà capace di colonizzazione interstellare nella nostra galassia natale, allora il nostro quartiere galattico potrebbe essere completamente colonizzato entro pochi milioni di anni. Quindi, in poche parole, la domanda principale riguardo il paradosso è se gli alieni esistono, perché non sono qui? La questione del primo contatto Ma come sarebbe in dettaglio l'incontro tra umani e i loro vicini extraterrestri? A questo proposito, la maggior parte dei film di fantascienza non dipinge un quadro particolarmente erosio. Invece di uno scambio pacifico, il primo contatto porta spesso allo scoppio di guerre brutali. Alla domanda riguardo questo, Elon Musk ha detto, se è così, allora siamo in grossi guai. Se è possibile che vengano da noi, allora sono di gran lunga superiori a noi tecnologicamente e saremmo finiti. Saremmo impotenti come dei bambini. Nel dettaglio, queste affermazioni corrispondono in una certa misura alla cosiddetta teoria Berserker. Questa spiegazione del paradosso di Fermi si basa sul presupposto che le civiltà, altamente sviluppate nello spazio, non siano affatto interessate alla convivenza armoniosa. Al contrario, la specie superiore invierebbe sonde di morte artificiale nello spazio per spazzare via selettivamente altri popoli. In questo modo, i potenziali nemici e concorrenti per le risorse devono essere distrutti al fine di aprire la strada alla propria espansione. La teoria della foresta oscura prende una linea simile, poiché la maggior parte delle civiltà extraterrestri, a paura di tali teorie di annientamento, fanno tutto il possibile per rimanere inosservate il più a lungo che si possa. Basta pensare all'omonima foresta oscura attraverso la quale vagano pericolosi predatori, coloro che si mimetizzano e mantengono un basso profilo, hanno le migliori possibilità di sopravvivenza. Possibili pericoli Quindi sarebbe auspicabile entrare in contatto con i nostri contemporanei extraterrestri? Bene, ricercatori come Stephen Hawking rispondono a questa domanda con un clamoroso no. Il genio morto nel 2018 ci ha dato un avvertimento urgente per garantire la sopravvivenza dell'umanità. Dovremmo immediatamente smettere attivamente di cercare civiltà extraterrestri, perché in realtà è concepibile che gli alieni vedano la nostra Terra esclusivamente come una potenziale fonte di risorse che devono essere derubate e soggiogate. Se le informazioni che abbiamo servito su un piatto d'argento come il Voyager Golden Records o le Targhe Pioneer entrassero in possesso di una specie aggressiva, sarebbe facile per loro scoprire le nostre vulnerabilità e prepararsi per una grande guerra di invasione. Pensiamo solo alla scoperta del cosiddetto Nuovo Mondo di Cristoforo Colombo e alla successiva colonizzazione da parte degli europei. Come è noto, questo finì in una sanguinosa catastrofe per i nativi americani. Se questo ti piace, allora dobbiamo sperare che gli alieni conoscano il minor numero possibile di caratteristiche umane. Una questione di tempo Elon Musk pensa che sia possibile che esista un'altra vita intelligente nell'universo. In un evento ha risposto a questa domanda con sembra probabile. Questa è una delle grandi domande in fisica e filosofia. Dove sono gli alieni? Forse tra noi? Non lo sappiamo. E con un sorriso ha detto Alcune persone pensano che io sia un alieno, ma non è vero. Un po' meno divertente è stata la dichiarazione di Musk quando gli è stato chiesto se il primo contatto potesse accadere nei prossimi 50 anni. È davvero difficile da dire. Se ci sono gli alieni superintelligenti là fuori, probabilmente ci stanno già guardando e non siamo abbastanza intelligenti da accorgercene. E inoltre, se una specie avanzata è interessata a popolare la galassia e diciamo che è in grado di viaggiare al 10 o 20% della velocità della luce, allora potrebbe popolare l'intera galassia in 10 milioni di anni. Pensieri inquietanti Ancora più agghiaccianti sono le frasi pronunciate da Musk quando spiegava come gli alieni potrebbero vederci. Di conseguenza, agli occhi degli extraterrestri potremmo rappresentare una sorta di piaga che deve essere sradicata il prima possibile. Ma Musk non vuole escludere la possibilità che incarnino effettivamente l'unica forma di vita avanzata nell'universo. Secondo la teoria del Grande Filtro, è concepibile che una civiltà debba superare alcune sfide o minacce di base prima di poter fare la transizione al volo spaziale interstellare. È quindi possibile che le specie rimanenti abbiano fallito in uno o più di questi passaggi intermedi. Un'alternativa sostiene che il progresso tecnologico di una città porta inevitabilmente al proprio annientamento. Nel nostro caso, l'autoestinzione potrebbe essere dovuta a una guerra nucleare, o a genti patogeni geneticamente modificati o a un effetto serra incontrollabile. Mancanza di interesse Voglio chiarire una cosa, per quanto ne so, non ci sono prove di vita extraterrestre e se qualcuno dice, ma che dire di tutti gli avvistamenti UFO, rispondo, dai ragazzi, guardate le qualità del filmato. Le persone dovrebbero usare almeno una fotocamera dell'iPhone per essere credibili. Questa dichiarazione di Elon Musk dimostra che non vuole entrare nel campo di incidenti e speculazioni non confermate con le sue opinioni. Ma gli alieni, anche loro sono interessati a contattarci? O forse è abbastanza per loro guardarci da dietro le quinte per assicurarsi che non ci facciamo saltare in aria? Musk ha risposto a queste domande. Sono decisamente sottili, voglio dire, se volessero identificarsi, certamente potrebbero. Potresti semplicemente presentarti e dire, ciao, sono io, sorridendo. Se fosse così, si stanno comportando decisamente in modo molto cauto. Tempo sprecato In realtà si potrebbe pensare che un uomo che sogna di popolare pianeti alieni si occupi relativamente spesso dell'argomento alieno, ma è l'esatto contrario. Secondo le sue stesse dichiarazioni, Musk non affronta affatto la questione riguardo la vita extraterrestre. Cosa c'è di più in vista della mancanza di un successo? Considera persino tali progetti come una sorta di perdita di tempo. Ancora più devastante è il suo verdetto sul campo parascientifico della preastronautica. Gli archeologi studiano il mondo intero. Se potessimo anche trovare qualcosa come, diciamo, un piccolo cubo di titanio all'interno della piramide, allora sarebbe chiaro. Devono essere stati gli alieni, perché la gente di quel tempo non poteva produrre tali oggetti. O un computer antico. Ok, la gente non aveva computer, quindi erano alieni, ma non possiamo trovare nessuna prova del genere. Tutto ciò che scopriamo può essere spiegato da un punto di vista archeologico. Se gli alieni ci avessero visitato in passato, avrebbero lasciato qualcosa alle loro spalle. Oggetto misterioso sul sole Come già accennato, da un punto di vista puramente tecnico, non ci sono prove solide che la vita extraterrestre esista effettivamente. Al contrario, tuttavia, ciò non significa che l'esistenza di forme di vita extraterrestri sia assolutamente esclusa tra i ranghi degli esperti. Dove i fatti ufficiali raggiungono i loro limiti, inizia il campo dell'ufologia, altrettanto eccitante e controversa. In effetti alcune persone sono ora fermamente convinte che ci siano innumerevoli civiltà aliene nelle gigantesche distese del cosmo, e che da un punto di vista tecnico siano di gran lunga superiori a noi. Scott C. Waring, un autoproclamato cacciatore di alieni con sede in Thailandia, crede fermamente che gli alieni esistano. Per cercare i nostri vicini extraterrestri non dovremmo nemmeno rivolgerci a galassie così lontane. In effetti si dice che alcuni extraterrestri facciano viaggi regolari nel nostro sistema solare e lasciano messaggi per l'umanità. Ma cosa porta il cacciatore di alieni a una tesi così audace che, secondo le sue dichiarazioni, può anche essere dimostrata? Una di queste presunte prove è stata fornita dalla stessa NASA. Non molto tempo fa, la rinomata agenzia spaziale ha pubblicato alcune immagini del Sole che erano state scattate da una sonda Soho. Mentre Waring esamina le immagini, riconosce immediatamente una strana forma sulla stella ospite del nostro sistema planetario. Dopo un'attenta analisi, è giunto alla conclusione che questa strana forma sembrava incredibilmente simile al numero 2. Questo a sua volta ha portato il convinto sostenitore di alieni a una linea di pensiero non meno eccitante. Il numero gigantesco che vediamo sulla superficie del Sole è stato deliberatamente immortalato lì da una specie a noi sconosciuta. Ma quale messaggio potrebbe essere nascosto in questo semplice numero? Secondo Waring, non è una dichiarazione di guerra intergalattica come la conosciamo da tanti film di Hollywood, ma un simbolo di amore, armonia ed equilibrio. Nel dettaglio Waring crede che gli extraterrestri ci stiano dicendo di tornare alle forze dell'universo e al potere della comunità. Di conseguenza le forme di vita extraterrestri sarebbero esseri con poteri angelici. Coloro che non hanno familiarità con le teorie esoteriche del cacciatore alieno credono che Waring sia caduto in preda dell'illusione, la pareidolia. Questo è il fenomeno del riconoscimento di forme, volti o oggetti familiari in oggetti e modelli. Probabilmente ti sei già sdraiato sull'erba in una bella giornata estiva e hai guardato le nuvole che passavano. Non è raro per noi riconoscere un'ampia varietà di strutture e figure nelle nuvole. Questo perché il nostro cervello tende a conformarsi, diffondere e apparentemente deformare le nostre immagini percettive a forme e modelli a noi familiari. Naturalmente Waring non vuole sentire nulla di queste spiegazioni. Non solo rimane irremovibile sul fatto che ciò che dice sia corretto, ma crede anche che la NASA stia facendo tutto il possibile per nascondere al pubblico l'esistenza degli alieni da lunga data. Quali sono i tuoi pensieri sulle opinioni del cacciatore di alieni? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Musica spaziale. Se gli alieni presumibilmente non esistono, allora prova a spiegare la seguente storia. Cosa è successo con gli strani rumori e fischi che gli astronauti dell'Apollo 11 hanno sentito nel maggio del 1969? Per spianare la strada al primo sbarco sulla Luna, con equipaggio Eugene Cernan, Thomas Stetford e John Young erano andati in orbita lunare dove hanno testato la discesa, l'ascesa, l'avvicinamento e le manovre di attracco. Nelle registrazioni audio che sono state rilasciate in seguito assistiamo a Cernan che chiede ai suoi colleghi se sentono anche loro questo strano fischio. I due uomini concordavano e in qualche modo i suoni melodici quasi ricordavano loro una sorta di musica spaziale. Si crede comunemente che il rumore fosse dovuto a interferenze radio che gli astronauti sentivano attraverso le loro cuffie. Tuttavia non tutti sono convinti di questa spiegazione, alcuni credono che ci fosse qualcosa di molto più sinistro dietro la musica spaziale. Va bene gente, ora è il vostro turno. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Elon Musk? Pensate che esista la vita extraterrestre? Attendiamo con impazienza i vostri commenti. e per favore lasciateci un like e iscrivetevi per sostenerci gratuitamente e rimanere aggiornati allo stesso tempo. Con questo grazie per averci guardato, buona serata e ci vediamo la prossima volta.